Sono stati tutti respinti cinque documenti discussi nella seduta straordinaria del Consiglio regionale del 13 marzo che chiedevano la stabilizzazione dei 204 lavoratori precari della Regione Piemonte, i cui contratti termineranno a luglio e a dicembre 2012. I quattro ordini del giorno e la mozione sono stati presentati dalle opposizioni, primi firmatari Gianna Pentenero e Aldo Reschigna a Partito Democratico, Monica Cerutti, Sinistra Ecologia e Libertà, Mercedes Bresso, Uniti per Bresso e Andrea Stara, Insieme per Bresso. Durante il lungo dibattito in aula è stata ricostruita nei vari interventi la vicenda che vede coinvolte persone che da anni lavorano in vari uffici regionali con contratti a tempo determinato. In chiusura di seduta l'assessore al personale Giovanna Quaglia ha riferito che il Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi ha dato la propria disponibilità ad affrontare il problema per cercare di arrivare ad una soluzione.